Seduta consigliare dall'avvio fibrillante, quella vissuta oggi a Santa Maria di Licodia, che segue a quella di ieri mattina rinviata per mancanza del numero legale. Prima della trattazione del punto all'ordine del giorno sulle aliquotetari, il presidente del consiglio Gabriele Gurgone ha dato lettura della nota consegnata dal consigliere Rapisarda, attraverso la quale ha voluto spiegare le motivazioni che lo hanno portato alla rottura con la maggioranza. Subito dopo una sospensione della seduta per 30 minuti, al fine di valutare meglio la documentazione inerente alle aliquote, il civico consesso ha iniziato a dibattere sui possibili tagli alla spesa per i cittadini. Gli elementi portati a votazione sono stati quelli della scelta riguardanti lo sgravio a carico dei contribuenti delle somme pregresse da versare al lato, la riduzione dei costi per la gara d'appalto della costituente Aro e l'eliminazione dei costi per i cittadini per la sistemazione del centro comunale di raccolta. Sentiamo Rosario Contarino del gruppo La Scelta e il presidente del consiglio Gabriele Gurgone. Ci sentiamo soddisfatti, forse per la prima volta sono state approvate delle diminuzioni vere e proprie sulla tariffa della Tari. Abbiamo proposto tre emendamenti importanti che permettono di ridurre queste tariffe di circa 40-45 mila euro, soprattutto perché questi costi possono essere presi da altri fondi che poi verranno riportati in bilancio. Già la proposta iniziale degli uffici e dell'amministrazione era una proposta favorevole. Nel corso del consiglio comunale il gruppo La Scelta ha proposto degli emendamenti. Questi emendamenti hanno avuto il parere sfavorevole del tecnico e pertanto io come presidente mi sono astenuto sui singoli emendamenti. Detto questo poi nella proposta finale ho appunto votato favorevolmente come tutto il consiglio comunale che ha approvato unanimamente le tariffe. Il primo cittadino ha risposto alle critiche mosse dal consigliere Angelo Capace circa la tempistica di trattazione dell'argomento in consiglio comunale. La proposta non è stata presentata in ritardo, è stata presentata entro i termini. È ovvio che i termini sono stati molto ristretti perché c'era una scadenza del 30 aprile per l'approvazione delle tariffe e quindi questo portare la proposta il 28 ha fatto sì che magari i consiglieri non avessero presente esattamente la situazione per quanto gravava la tariffa nei contribuenti. Al momento della votazione dei singoli emendamenti l'opposizione oggi maggioranza consigliare si è mostrata compatta portando ad approvazione tutte e tre le proposte. I consiglieri fedelissimi del sindaco hanno invece seguito la strada dell'astenzione per i singoli emendamenti pur avendo votato favorevolmente alla votazione finale. Le aliquote etari dovranno adesso essere ricalcolate in virtù degli stravolgimenti odierni.